...unica, dai piedi alla testa e dai piedi, è un unico pezzo, sincero, pulito, trasparente e tutto, questo mi fa veramente piacere di stare vivendo, anche a voi altri, volevo aggiungere questo, noi facciamo sport, facciamo questo tipo di sport, fa tutta la luce del sole, con trasparenza, con amicizia e calvo, ecco, vi ringrazio tutti, veramente di buono a tutti e voglio dare io un premio adesso a Michele e al suo inizio tutto di riconoscimento. Abbiamo fatto una targa, l'opera di Tadessi, in onore al decimo anniversario del club Alfa Romina. Grazie a tutti, ci vediamo presto. La frase piace, vero? Voglio ringraziare per la colorosa collaborazione il club Amicettino di Gioia Lauro e il presidente Gianfranco Passini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.